Il cruscos si può sintetizzare con una parola sola un ristorante dove si cucinano i panini come veri piatti di chef, andando a prendere tutti i prodotti locali di ogni città. Abbiamo sia il reparto doc food che riguarda i burger di pesce, abbiamo il burger al baccalà e il burger al salmone, mentre lo street food che riguarda il burger di carne, abbiamo quello di manzo e il burger con l'agnello e in più c'è anche il burger di pollo. Oltre ai panini che noi chiamiamo peperi abbiamo una vasta gamma anche di fritti, baccalà con il peperoni cruschi, il salmone e poi abbiamo una nuova elaborazione del baccalà che noi chiamiamo black sea che sarebbe un baccalà almeno di seppia. Siamo anche una salumeria 2.0 perché oltre a fare panini vendiamo anche dei prodotti prettamente lucani. La nostra idea è stata sempre quella di fare un'associazione di produttori e riunirli per poter far sì che loro potevano tranquillamente vendere questi prodotti attraverso i cruscos che sono oggi in Europa e se non quasi nel mondo. L'obiettivo è quello di favorire la penetrazione in alcuni mercati dei prodotti di qualità che non avrebbero magari la stessa occasione. Cruscos rappresenta proprio per questo una vetrina per tali produttori, tant'è che magari pagare il listing su scaffali di diverse catene alimentari o gourmet sarebbe difficile, invece è molto più easy farlo localmente, quindi partendo da Potenza diramandosi sia in Italia sia all'estero. Oggi apriamo il Cruscos ufficiale, il Master Potenza, quel Cruscos che darà alla Basilicata qualcosa di importante perché è qui che gli altri Cruscos verranno a conoscere i nostri prodotti, a conoscere i nostri produttori, i vini, i liquori del Pollino, i dolci, le paste, tutto ciò che può rappresentare una sana produzione agricola e non industriale. Cruscos nasce creando il food travel, quindi il cibo con il viaggio, è un viaggio attraverso il cibo dove ognuno si siede con il suo pc, con il suo computer e tra una riunione e l'altra, tra un lavoro e l'altro può degustare una nostra pietanza. Noi oltre che fare da mangiare abbiamo anche serate di intrattenimento dove in realtà alcuni giovani che non hanno possibilità di suonare possono venire qui a suonare liberamente e quindi esprimere proprio la loro felicità associando cibo, musica e viaggiare. Cruscos si trova a Potenza, in piazza della Costituzione, siamo aperti 365 giorni l'anno e apriamo la mattina presto così potete degustare i nostri peperi già a pranzo fino a tarda serata.